Musica Informazione, ci avviciniamo l'obiettivo a 30 secondi Auto, qui deadly, penseremo noi ai bersagli grossi, voi neutralizzate ogni altra minaccia con il Mark 19 A tutti i segnali di chiamata qui, Overlook, corazzato nemico nel palmetto ovest del fiume Un'altra batteria a terra, attenzione Confermati, RPG riteni Batteria a contraerea sul testo Inizio armati di RPG Un'altra batteria è in fuga, possiamo atterrare Ok, ricevuto, Backelor 27, è ora di portare gli Abrama sul fronte Outlook di comando, metà di voi restino lì, il resto proceda per due chilometri a Odeth, dovete farvi in salvo una vanguardia bloccata in città Giù dalla rampa, muotersi Via, via, via Ricevuto, Backelor 25, movimento Marina, ascoltate, una delle squadre di ricognizione è bloccata e ha bisogno dell'osso aiuto Outlook qui deadly, rientriamo alla base per armi e rifornimenti, da adesso operi da solo, 2-5 L'avanguardia è bloccata in un'area ad alto rischio, il rumo verde indica la loro posizione Attenzione agli alleati vicino ai fumogeni colorati, portiamo fuori quei ragazzi e andiamocene Fuoco da Mordaio, in arrivo! Area troppo pericolosa, 3 minuti e ripassiamo Temici! In cima a quei mazzoni! Andate! E' gentile, al riparo! Stecchino! Occhio agli alleati vicino al fumo verde del secondo piano, tiriamo fuori da lì i nostri ragazzi! Nemici! Il sinistro del duro è collato! Coraggio! Facciamoli fuori! Nemici in campo aperto! Nord ovest! Sergente! Al riparo! A presto! Cambio caricatore! Nemici con RPG! A quei tocchi di sabbia! Rest! A presto! 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 Anelditi! Anelditi! Cambio caricatore Cambio caricatore Cessate il fuoco, cessate il fuoco Alleati al secondo piano, ripeto, alleati al secondo piano Siete voi i nostri salvatori? Affermativo capitano, andiamo prima che si riorganizzi Auto inquisenti, omissioni e carburante acquisiti, sono marcata E' brutta Muoverci, andiamo, andiamo Uno in mezzo Contatto, accanto alla recensione Staccito Reguitami Contatto nemico Attenzione, calabra Attenzione, calabra Contatto nemico Contatto nemico Contatto nemico Contatto nemico Contatto nemico Contatto a quella che ho detto di legna Manate L'amici, a quei sacchi di sabbia! No, in più d'acqua! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! In giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! Comici, in giro a quella che ha fatto la legna! C'è uno di ieri! Comici, in giro! Che non è quello che ha fatto la legna! Gisela da qui! No, 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 no. Brava. Brava.